Qualche giorno fa sotto il video di Batman Vengeance abbiamo ricevuto questo commento che mi ha fatto ricordare di Batman Gotham City Racer, il peggior gioco di Batman alla quale abbia mai giocato o almeno questo è quello che mi ricordavo, così ho deciso di rigiocarlo e devo dire che è assolutamente uno dei giochi più brutti alla quale abbia mai giocato e limitarlo a brutto nella categoria dei giochi di Batman non è abbastanza ma non sono qua per farvi perdere tempo se lo avete giocato sapete perfettamente perché è così brutto ma restate fino alla fine perché ho trovato il modo per farlo diventare divertente se non lo avete mai giocato, adesso vi spiego perché fa così schifo Innanzitutto Gotham City Racer è un gioco pubblicato da Ubisoft e sviluppato da Sinister Games per PlayStation 1 ed è un gioco di corse, almeno sulla carta perché in realtà è un simulatore di sconte frontali con i muri pensate stia scherzando? Assolutamente no perché in questo gioco è impossibile riuscire a fare una curva di 90 gradi con la Batmobile e adesso finalmente ho capito perché in Batman Vengeance l'unico vado per far girare la Batmobile è usare dei rampini che si attaccano ai pali ma aspettate perché il peggio non è finito, oltre alle macchine ci sono anche le moto che sono 10 volte peggio, letteralmente è impossibile girare e continuere a sbattere di muro in muro ogni 3 secondi i comandi di questo gioco mi hanno traumatizzato così tanto che non riesco più a fare le curve nella vita vera però non in macchina ovviamente, a piedi infatti sono due giorni che sono bloccato in cucina e non riesco a uscire di casa perché devo fare una curva a 90 gradi ma continuo a prendere il muro ma che poi mi immagino i cittadini di Gotham che vedono guidare Batman in questa maniera devono stare là sicuramente a pensare Batman vai a casa, sei chiaramente ubriaco e forse anche cieco per questo forse si veste da pipistrello, ci hanno in comune la vista per i personaggi che potete scegliere c'è ovviamente la Batfamilia con Batman, Batgirl, Nightwing e Robin e poi ci sono i classici cattivi come ovviamente Joker, Harley Quinn, Poison Ivy, Mr. Freeze due facce e Killer Croc che è una lucertola umanoide alta 6 metri e larga 10 che mi chiedo come faccia ad entrare nella macchina ma soprattutto ne ha bisogno perché tra l'altro vive nelle fogne e me lo immagino che entrerà nella macchina come il tizio altissimo di Simpson questo gioco poi è anche una modalità storia fatta di 51 livelli alcuni sono brevi e consistono semplicemente dall'andare da punto A a punto B che visto i comandi non è per niente semplice però vi garantisco che è peggio di quello che potete pensare perché nella parte superiore dello schermo c'è una freccia che vi dice dove andare il problema è che spesso vi manderà in una direzione sbagliata o addirittura contro dei muri poi ci sono le missioni di pedinamento pedinamento, semplice o no? basta seguire la macchina del cattivo di turno no, non è semplice perché se vi avvicinate troppo e vi fate scoprire la missione ovviamente finisce il problema è che non solo dovete riuscire a prevedere quando premere i tasti per girare perché c'è un delay di almeno 10 secondi per riuscire correttamente a fare una curva ma dovete anche riuscire a prevedere l'intelligenza artificiale del computer perché spesso guideranno senza il minimo riguardo per quello che c'è intorno a loro e finiranno per colpire le altre macchine rimbalzarele indietro e quindi farvi perdere perché vi siete avvicinati troppo oppure letteralmente glitcharsi nei muri che è il tema ricorrente di questo gioco ogni cosa in questo gioco parte da un muro e finisce in un muro che è quasi poetico se ci pensate poi ci sono le boss fight con i vari nemici che si svolgono in questo modo dovrete eseguire la macchina del nemico e riuscire ad abbattere la prima che il nemico riesca ad arrivare alla fine del percorso il problema però è che se rallentate anche soltanto un nanosecondo è impossibile, non li riprendete mai più però se arrivati a questo punto vi state chiedendo è possibile che questo gioco abbia solo lati negativi no, ha anche un lato positivo durante la storia ci sono delle cutscene dove si vedono parti degli episodi della serie animata è sempre bello da vedere perché alla fine la serie animata è fantastica e poi quando arrivano queste parti ti tranquillizzi perché pensi oddio almeno finalmente adesso non devo più giocare poi c'è un'altra modalità la modalità di pattuglia dove praticamente vi fissate un tempo limite vi scegliete una parte della mappa di Gotham e fermate dei cattivi è praticamente una modalità del tipo partita veloce perché gli sviluppatori ovviamente hanno pensato con questo fantastico gameplay con questa fantastica mappa e sì ma sai quanta gente vorrà spendere così dieci minuti a farsi una partita normale quanta gente ci sarà stata e sto giocarlo ha venduto almeno sei copie che alla fine l'idea ci stava poteva essere una cosa anche abbastanza unica nel paranoma dei giochi di supereroi però è proprio la realizzazione che è stata una cosa atroce all'inizio del video vi avevo promesso un modo per divertirvi con questo gioco no? e intendo mantenere la promessa infatti vi parlerò dell'ultima feature che non sapevo esistesse e che ho scoperto soltanto rigiocandolo questo gioco ha una modalità split screen quindi potete giocare con un amico e questa modalità funziona in questo modo uno prende il cattivo uno prende il buono ed è tipo guardie e ladri il cattivo deve rapinare le banche e il buono deve impedirglielo e vi garantisco che questo è l'unico modo per divertirsi perché almeno siete in due con un amico nessuno di due riesce a guidare e ridete a vicenda del fatto che continuate a spattere nei muri e non riuscite neanche a fare mezza curva poi se volete aumentare la difficoltà io adesso sto dando per scondato che tutti quanti quelli che sono guardando il video abbiano superato almeno i 20 anni perché questo è un gioco del 2001 potete sempre pensare di farvi uno sciottino ogni volta che beccate un muro così almeno avete una scusa per breccare il muro mi raccomando fatelo solo nel gioco mai bere guidare nella vita vera se il video vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi se credete che ne vuole la pena e lasciate un commento tutte queste cose ci aiutano tantissimo a far crescere il canale